Grave incidente stradale nella serata di mercoledì a Villa di Tirano. Due auto, una BMW e un'Opel Corsa sono entrate in collisione nel tratto in cui Via Foppa si innesta nella statale 38, coinvolte tre persone. A bordo della BMW due sorelle di 22-8 anni residenti a Tirano. Al volante dell'altra vettura un 71enne di Lovero. Ecco le immagini postate su Facebook dalla disc jockey Cisco Cisco Fly, giunto sul posto pochi istanti dopo l'incidente. La bimba è stata trasportata fino all'ospedale di Sondrio, poi è stato disposto il suo ricovero all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La prognosi è riservata ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Dieci giorni di prognosi per la sorella maggiore, già dimessa. Ricovero in prognosi riservata agli spedali riuniti di Brescia per il 71enne. Sulla dinamica indagano i carabinieri del norme di Tirano. Secondo una prima ricostruzione la Opel si sarebbe immessa nella 38 da via Foppa nel momento in cui da Tirano sopraggiungeva la BMW.